vi eravamo mancati e invece siamo di nuovo qui io Gigi Giancursi e Federico Sacchi ultima puntata con questa chiudiamo Eurovision 2022 allora direttamente dagli spazi dell'Eurovision lo vediamo camminare negli ampi spazi del Pali Sacchi Luciano Morciano ciao Lucio ciao Claudio Fede Gigi Claudio stasera tu non c'hai due ospiti c'hai due conduttori c'hai due mentori visto che roba grazie per essere con noi so che in questo momento sei occupato sei nel backstage del Pala Alpitur c'è folklore ci sono tanti colori e la situazione è particolarmente frizzante c'è gente immagino da tutta Europa in questo luogo in cui ti trovi sì da tutta la Calabria sicuramente da tutte le lande della Calabria si sono riuniti tra poco partirà la mia vera maestranza che è il DJ set e quindi ci aspettano Vasco Rossi d'Argent Amico la rappresentante di lista ovviamente che è il brano dei matrimoni di quest'anno ascoltami ma il pezzo della Norvegia non lo spari hai sentito qualche pezzo dell'Eurovision il pezzo della Norvegia è molto figo secondo me ma arriverà tra un mese tra un mese o due le hit hanno bisogno di tempi fisiologici ovviamente ai matrimoni sa va san dire che ci vanno soltanto mega mega hit io lo dico subito da maestrante dei matrimoni per me Maro che non è Maro ma Maro del Portogallo non so se vincerà lei però per me qualità qualità e popolarità viaggiando insieme nota a margine scopri ho scoperto stamattina che Maro è una delle coriste di Jacob Collier youtuber nonché grandissimo jazzista grandissimo Jacob Collier a 17 anni 18 fece la sigla dei Simpson su youtube e sbancò praticamente l'internet comunque siamo d'accordo con te che il pezzo del Portogallo anche noi anche noi abbiamo votato sai nostro oggi abbiamo votato con i Cotugni quelle tototriste e quello è il totollegro quindi il tuo voto va al Portogallo grazie per essere stato con noi lucio alberto organizzare o fissare una data di uno spettacolo della rassegna borgate dal vivo che curi come direttore artistico la sera della finale dell'eurovision a rivalta provincia di torino com'è andata devo dire che io l'ho fissato prima è stata una bella serata di musica e devo dire che l'età media del nostro pubblico rivaltese forse non è quella dell'eurovision quindi un po' aiutato torino si è fermato il mondo un po per l'eurovision ma effettivamente la vita continua ecco avrei anche potuto rinviare la data ma è stata una cosa completamente diversa ecco la serata che avete organizzato a borgate dal vivo era musica due artisti cantatori come giudichi questo questo eccessivo se vogliamo momento di show rispetto alla musica esiste prima lo show e poi la musica in un palco come l'eurovision per quanto riguarda l'eurovision è giusto mi domando da una parte ma così in maniera costruttiva non polemica quanto di tutto quello che vediamo sia poi sostenibile visto che andiamo tutti quanti alla ricerca di una sostenibilità economica ambientale sociale forse quello non questo non l'è stato tantissimo però un grande puri che ha fatto bene secondo me alla città che si accorta che può fare dei grandi eventi sembra che tutti si siano accorti che dopo due anni c'è esiste ancora la musica dal vivo ecco che cosa resterà dell'eurovision secondo te tu come alberto come organizzatore di eventi forse resterà un po di di nostalgia e di voglia di fare qualcosa mi sembra un po quell'atmosfera un po che c'era nelle olimpiadi nel 2006 però in questo caso molto 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 più concentrata e quella cosa ha lasciato tante cose positive ha lasciato anche alcuni strascicchi meno positivi insomma se dovessi dire quindi l'esperienza dell'eurovision tutto sommato per la città e per tutto è positiva o no ma io credo che tutto sommato sia positiva sia positiva per il settore musicale per il settore dello spettacolo dal vivo della cultura in generale e non solo per pochi eletti mi è piaciuta molto la ragazza greca sembra scontato dire gli ucraini non so se tutti vogliamo che vengano gli ucraini per quello che sta succedendo in ucraina però mi divertono davvero molto non mi piace moltissimo la canzone di blanco ma mood ma alberto grazie grazie alberto bello ciao 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 stanno dando i punti ok hanno praticamente vinto gli inglesi siamo quarti quarti finora comunicano i voti da 1 a 10 noi stiamo prendendo niente come vi avevo detto siamo veramente sconvolti la grecia sta spaccando le reni a l'italia ma non solo ma proprio ma neanche nei peggiori incubi oppure che la grecia potesse arrivare così nato perché come fa tutto l'insieme non è solo la canzone e la performance nella sua totalità la canzone è bella ma la performance era penosa e stiamo pagando l'inghilterra per adesso sta proprio volando che performance ha fatto l'inglese l'inglese ha fatto una performance da paura c'è da dire da paura c'era era un pezzo vocalmente difficilissimo ha una melodia di quelle un po d'accatto da quattro soldi ma che per una cosa come verbovision va bene è un personaggio famosissimo famosissimo sui social che votano quelli che sono sui social che seguono una cosa del genere perché vogliono che loro beniamino ci sta è vero il televoto poi fa il mega ribaltone e siccome è successo maneskin hanno vinto per il televoto perché vennero votati tantissimo l'irlanda ha dominato dalla seconda metà degli anni 80 fino alla metà degli anni 90 hanno dominato proprio hanno vinto tutto bisogna anche andare a vedere chi è che vota eurovision sicuramente il gusto probabilmente di chi vota eurovision questo questo latino un po di discount come diceva prima ma il gioio con cui sono abbastanza d'accordo però devo dire è probabilmente in questo momento la sensibilità è questa però c'è il televoto 8 2 com'era vai fede quindi chi votiamo noi gigi noi votiamo toto portogallo noi votiamo toto il top 3 è united kingdom con 283 punti ma c'è già il televoto seguito ferma ferma no non ancora seguito dalla svezia 258 e al terzo posto la spagna con 231 sull'internazionale l'ucraina potrebbe prendere tanti punti effettivamente potrebbe prendere tanti punti ma sapete anche perché ragazzi pensiamo al fatto che se vincono l'anno prossimo si va lì si va lì quindi sarebbe anche una presa di posizione no certo il pezzo è bello non è bellissimo è un bel pezzo italia questo momento è quarta il fatto che sia lgbtq plus friendly come manifestazione il fatto che siano due bei ragazzi che sono un po fluidi all'eurovision fa ridere i polli c'è una cosa sdoganata da 35 anni quindi quello che per noi siamo noi siamo indietro tanto da questo punto di vista l'inghilterra può arrivare seconda eccolo qua jacopo tomatis quando si parla di eurovision euro festival abbiamo in qualche modo uno dei protagonisti come ce n'è uno qua al mio fianco jacopo tomatis ha avuto a che fare vis a vis e parola per parola proprio con giglio alla cinquetti che è una delle vincitrici dell'eurofestival quindi naturalmente non possiamo non chiederti come è stata la tua impressione personale sia sulla kermes che con proprio con l'avere a che fare con giglio alla cinquetti parto da giglio alla cinquetti che è stata ospite di un evento che abbiamo fatto all'università grandissimo personaggio grandissima lucidità nel raccontare la sua storia grandissima performer questa sera devo dire penalizzata da un arrangiamento abbastanza terribile imbarazzante sono d'accordo sono riusciti nell'obiettivo credo di fare un arrangiamento più vecchio di quello di un pezzo del 64 cioè il pezzo del 64 c'ha c'ha queste chitarrine un po surf questo questo è un pezzo vecchio sanremo lei è ancora una grandissima performer e sulla kermes vabbè grande spettacolo torino non è assolutamente pronta all'idea che venissero così tante persone quindi scena il delirio l'euro village autobus ingestibili quindi esattamente come ce lo aspettavamo ecco ci sono migliaia di fan anche stranieri che non sanno dove guardare euro vision quindi vanno all'euro village però i posti sono pochi ci sono due accessi la gestione diciamo non proprio perfetta da quel punto di vista quindi sì secondo me la mia impressione che non ci sono forse non ci si aspettava così tanta gente ecco perché come si sa in italia euro vision non è così così noto e quindi insomma qualcuno forse non aveva capito le dimensioni dell'intera operazione jacopo che cosa resterà di euro vision a torino secondo te come esempio come prospettiva ma allora euro vision mancava dall'italia da 30 anni gli ultimi anni hanno visto una grande crescita degli ascolti quindi c'era grandissima attenzione anche dagli operatori internazionali grande aspettativa nei confronti dell'italia nei confronti di torino perché appunto edizione del 91 a roma è stata ricordata come la worst edition ever perché è successo più o meno di tutto orchestra insomma che non sapevano le parti conduzione in italiano direi che è andato tutto bene a parte ovviamente qualche problema come dicevamo prima di di ordine pubblico per cui in realtà secondo me questa cosa segnerà il definitivo ritorno di euro vision in italia in temi di ascolti e probabilmente innescherà anche questo meccanismo di celebrazione che a torino abbastanza noto noi ci abbiamo i grandi eventi poi li celebriamo per i successivi dieci anni vedi olimpiadi quindi probabilmente succederà lo stesso con euro vision almeno in parte forse sta già succedendo grazie 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 ciao davide allora tu sei tu vivi da tanti anni ormai a bristol come è vissuto l'euro vision in inghilterra raccontaci allora io sono stato trascinato da uno dei primi amici che ho fatto in inghilterra l'euro vision in italia per quel che ne so ne sapevo io all'epoca lo si conosceva soprattutto nel mondo un po nel mondo gay questo amico mi ha inviato questo a questa serata che è stata appunto una serata come quella che poi alla fine ho passato stasera introducendo la mia famiglia italiana ho visto l'entusiasmo dei dei miei amici e poi come come stasera naturalmente abbiamo io ho stampato ma fantastico è molto bello perché cioè tu ci stai dando l'idea di come per esempio in inghilterra venga celebrato come un rito collettivo un po come da noi quando c'è il festival di sanremo è ancora più proprio giocosa la cosa no questa sera sono stato in contatto con due euro vision parti in inghilterra ho sentito gli ultimi commenti proprio prima di sentire voi adesso mi hanno chiesto un po un po della invece loro della percezione di euro vision in italia noi ti vorremmo chiedere la il tuo podio per ragioni così un po estetiche mi è piaciuta la serbia è sempre un po difficile votare euro vision perché ci sono le canzoni che magari sono più carine però non ti vergogni quasi a dare il voto alle canzoni belle per vici no devo votare devo votare le cose fresh la canzone carina che ti vergogneresti di votare ma poi in fondo se potessi è quella del portogallo ecco a noi per noi è la nostra vincitrice a noi piace tantissimo quella del portogallo grazie stai bene ciao alla prossima attenzione testa testa ucraina regno unito l'ucraina vince l'euro vision son contest 2022 un tripudio è un trionfo possiamo dire che l'avevamo detto in inizio trasmissione che vinceva l'ucraina facciamo un riepilogo quello ufficiale ucraina inghilterra seconda spagna terza svezia quarta serbia quinta italia sesta immeritato secondo me perché dovevamo stare a metà classifica non sesti e c'è il momento più importante comunque ragazzi sono i nostri voti assurdi esatto mi sto già sbellicando dalle risate il pizzino che mi passò due ore fa recitava quinto posto italia quarto posto united kingdom questo è veramente da morire da ridere terzo posto islanda solo perché ti sei innamorato della bassista c'è una votazione adolescenziale secondo posto portogallo e al primo posto la norvegia e io dopo questo mi ma quinto posto no questo è imbarazzante francia francia ci credevi male ragazzo mio quarto posto lituania al terzo posto la norvegia e io ci credevo al secondo posto l'italia e qui proprio uno sfondone di quelli cramorosi e al primo posto l'inghilterra quindi devo dire che tra quella che mi sono mangiato che mi starà sullo stomaco per sempre la lista di gigi e la tua devo dire che l'eurovision song contest dei pescatori di strote di rba l'ha vinta gigi giancursi bravo gigi bravo gigi grazie ragazzi hai vinto l'altra rotta d'oro dell'eurovision è stata un'avventura incredibile io soprattutto vorrei ringraziare questi tre martiri che sono davanti a noi i nostri tecnici vi salutiamo con il ritornello della canzone di toto lasciatemi cantare con la chitarra in mano lasciatemi cantare una canzone piano piano grazie a tutti grazie grazie è stato bellissimo grazie forza toto viva lui sempre e comunque grazie a tutti grazie a tutti